Amici e amiche del canale, buongiorno. Come sapete tutti, domani c'è Roma-Juventus, un incontro importantissimo, sia per la Roma che per la Juventus, e io auspico che ci sia imparzialità da parte dell'albitro e soprattutto dalla parte della VAR, perché quello che è successo l'altro giorno in Roma-Milan è una cosa indecente, una cosa indescrivibile. Mi devono ancora spiegare Kifi e i suoi amici della VAR come hanno fatto a vedere il tocco di braccio di Hebram che nessuno al mondo l'avrebbe mai visto, perché Theo Hernandez ha tirato una botta da 200 km orari e chi l'avrebbe mai visto quel tocco? Poi neanche si sa bene se l'abbia toccata veramente o meno. E invece non hanno visto il fallo che ha fatto Tonali su Zaniolo e soprattutto non ha visto la maglia che gliel'ha portata al Colosseo, gliel'ha portata al Colosseo, un altro poi gliela toglieva a Zaniolo quella maglia Tonali e mi devono spiegare come hanno fatto a non vederla. E' una cosa incredibile ragazzi. Io non voglio fare il piagnone, dicono tutti che noi tifosi della Roma siamo piagnoni, ma datemi il mio, datemi il giusto, perché in una partita a volte gli episodi possono farla cambiare radicalmente. E' vero che la Roma ha giocato male, che sicuramente il Milan avrebbe vinto ugualmente, ma come hai dato due rigori al Milan? Li dovevi dare anche alla Roma. Quello che è mio me lo devi dare, perché il rigore su Zaniolo è solare. L'abbiamo visto noi dalla televisione, voi che siete in campo non avete visto nulla e addirittura quelli della Vare che hanno le televisioni davanti, vengono pagati soltanto per quello e non se ne sono accorti, del fallo e della trattenuta della maglia. Non la trattenuta, che l'ha proprio tolta. Come ha fatto a non vederla? Io mi appello soprattutto ai dirigenti della Roma, non lasciate Morigno da solo. E' vero che è stato preso apposta perché ha carisma, ha determinazione, però fatemi sentire anche voi in Lega. in FIGC, dove dovete andare, non lo so io. Perché sta diventando una cosa incredibile. Troppi episodi a sfavore. Domani con la Juve stiamo in campana. Facciamoci caso subito a queste cose. Non aspettiamo che passano i giorni e ce ne accorgiamo dopo. Subito ci dobbiamo far sentire. Subito dobbiamo andare dall'arbitro. Subito dobbiamo andare dal quarto uomo. Come fanno gli altri? Se li mangiano gli arbitri? Domani vedrete che Chiellini e Bonucci, non so se giocano, non lo so, però vedrete che atteggiamenti avranno nei confronti degli arbitri. Se li mangiano gli arbitri, appena vedono qualcosa che non va, gli vanno sotto con la bocca. Gli arbitri si cagano in mano, scusate del termine. E anche la Roma deve fare così. Io vedo soltanto che Mancini e pochi altri hanno questo carisma. Gli altri? Sembra che gli sta bene tutto. A Zaniolo, poveraccio, lo martorizzano dall'inizio della partita fino alla fine. Gli spaccano le gambe e neanche vengano ammuniti. Ragazzi, è vero che quest'anno la Roma non sta giocando bene, però secondo me dobbiamo dare tempo ancora a Murimio. Dobbiamo dare tempo perché anche questi episodi a sfavore debilitano la squadra, la demoralizzano. demoralizzano, detto bene. C'è troppi episodi a sfavore. La squadra si sta formando adesso. È in piena evoluzione. E quindi tutti questi episodi negativi influiscono anche sui risultati. È vero che la Roma deve trovare una guatra, deve trovare un assetto di gioco, tutto quello che vi pare a voi. Però anche queste cose influiscono. Influiscono. C'erano due rigori solari. Ai bagni e se poverascio gli ha dato una botta a Ibrahimo che quello pesa 100 kg al 2 metri l'ha mandato alla barginina del calcio d'angolo. Tutto a posto. Tutto bene. Invece Mancini ovviamente su... come si chiama? Leo. Leo, se non sbaglio. Ha fatto fallo, cartellino ed espulsione. Regolare, no? Regolare Watson. E invece la Roma non ha visto nulla. Il signor Kiffi, il grande Kiffi che domani sta a casa non lo fanno arbitrare. Io mi aspetto che domani ci sia imparzialità per Roma-Juventus. non mi inventate niente perché il tifoso romanista è bravo, sì, ma gli fate anche rodere il chiccherone, eh. Non ci fate le rodere il chiccherone, eh. Alla prossima. E forza Roma. Alla prossima. Grazie.